Ridurre le zone a traffico limitato e migliorare l'accesso delle auto in centro storico è la richiesta dell'Associazione di Categoria Confcommercio in vista della discussione in Consiglio Comunale del PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, pensato per trasformare la viabilità e gli spostamenti dei cittadini. Forse adesso andrebbe rivisto completamente questo PUMS, dico andrebbe rivisto completamente perché stanno cambiando completamente anche i modelli di consumo e quindi la fruibilità all'accesso alla città secondo me deve essere differente rispetto al passato. Da Confcommercio arriva quindi la richiesta di accorciare la ZTL e di realizzare due assi di scorrimento per l'accesso dei veicoli privati nel centro storico di Piacenza, uno in entrata e l'altro in uscita, dotati di relativi collegamenti con aree di parcheggio. Una maggior apertura, una maggior fruibilità, un maggior accesso e quindi si produce poi in comodità al centro.